Ciao a tutti e benvenuti in questo viaggio alla scoperta del concetto più affascinante e misterioso della fisica moderna, il principio di indeterminazione di Heisenberg. Ma prima di immergerci in questo mondo intrigante, vi siete mai chiesti quanto possiamo realmente sapere sull'universo che ci circonda? Quanto possiamo essere precisi nel misurare le cose più piccole che esistono? Werner Heisenberg, un giovane fisico tedesco, si pose queste domande nel lontano 1927. Vivendo in un'epoca di straordinari cambiamenti scientifici, Heisenberg si trovò a navigare nel misterioso e ondulato mare della nascente fisica quantistica. Questa nuova fisica stava sfidando le idee che avevamo da sempre sulla realtà, e Heisenberg era in prima linea in questa rivoluzione. Per capire l'importanza del lavoro di Heisenberg, dobbiamo fare un passo indietro e guardare al mondo prima del suo principio. All'epoca, la fisica classica, guidata dalle leggi di Newton e dalla teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell, regnava sovrana. Si pensava che, con le equazioni giuste, si potesse prevedere tutto con precisione assoluta, dalla traiettoria di un pianeta al comportamento di una palla da biliardo. Ma c'era un problema. Questa visione non funzionava quando i scienziati iniziavano a guardare al mondo a livello atomico e subatomico. Proprio in questo contesto iniziò a emergere una nuova teoria che avrebbe rivoluzionato tutto, la meccanica quantistica. Gli scienziati iniziarono a scoprire che, a livelli microscopici, le particelle non seguivano le regole classiche. Si comportavano in modi strani e imprevedibili, sfidando il nostro senso comune e le leggi della fisica che pensavamo fossero universali. E qui entra in gioco Heisenberg. Heisenberg, lavorando su queste nuove e strabilianti idee, propose un concetto rivoluzionario. Il principio di indeterminazione. In poche parole, questo principio afferma che c'è un limite fondamentale alla precisione con cui possiamo conoscere certe coppie di proprietà di una particella. Come la sua posizione e la sua velocità. Ma cosa significa realmente? E perché è così importante? Prima di addentrarci nei dettagli, voglio che pensiate a qualcosa di molto piccolo, come un elettrone. Immaginate di provare a determinare dove si trova e quanto velocemente si muove. Sembra abbastanza semplice, vero? Ma come scopriremo nel mondo quantistico, le cose non sono mai così semplici come sembrano. Ora che abbiamo introdotto l'idea e la storia dietro al principio di indeterminazione, passiamo a esaminare più da vicino cosa dice realmente questo principio e come Heisenberg è arrivato a questa sorprendente conclusione. Nel cuore del principio di indeterminazione di Heisenberg sono presenti le particelle subatomiche, come gli elettroni. Queste particelle sfidano la nostra comprensione intuitiva del mondo. Ad esempio, se proviamo a misurare esattamente dove si trova un elettrone attorno a un atomo, ci rendiamo conto che non possiamo allo stesso tempo sapere con precisione quanto velocemente si sta muovendo. Questa è la realtà sorprendente che Heisenberg ha rivelato. Quando misuriamo la posizione di un elettrone, usiamo strumenti che, a questo livello microscopico, influenzano l'elettrone stesso. Per vedere un elettrone, ad esempio, potremmo dover usare un fotone, una particella di luce, per illuminarlo. Ma nel momento in cui il fotone colpisce l'elettrone, ne cambia lo stato, influenzando la sua velocità o direzione. Questo è un esempio pratico del principio di indeterminazione in azione. Quindi non è solo una questione di migliorare i nostri strumenti di misura. C'è una limitazione fondamentale, imposta dalla natura stessa delle particelle quantistiche, che impedisce di conoscere contemporaneamente e con precisione certe coppie di proprietà come posizione e quantità di moto o velocità di un elettrone. Avendo esplorato come il principio di indeterminazione influisce sulle particelle, nei prossimi video passeremo a vedere come questo principio si manifesta nel mondo più grande attorno a noi, dalle tecnologie che usiamo ogni giorno alle frontiere della ricerca in fisica. In questo viaggio attraverso il principio di indeterminazione di Heisenberg, abbiamo scoperto come questo concetto fondamentale della fisica quantistica sfidi la nostra comprensione del mondo a livello microscopico. Abbiamo visto che, a differenza del mondo macroscopico che percepiamo nella vita quotidiana, l'universo a livello subatomico è governato da regole diverse, dove la precisione assoluta diventa un'illusione. Heisenberg, con il suo principio, non solo ha aperto nuove strade nella fisica teorica, ma ha anche gettato le basi per innumerevoli innovazioni tecnologiche. Dalla tecnologia dei semiconduttori ai computer quantistici, l'impatto di queste scoperte si estende ben oltre i laboratori di fisica. Ma forse, l'aspetto più affascinante del principio di indeterminazione è la sua capacità di provocare profonde riflessioni filosofiche. Ci sfida a ripensare il nostro ruolo nell'universo, la natura della realtà e il concetto di conoscenza. In un mondo dove non possiamo conoscere tutto con precisione, dobbiamo affrontare l'incertezza come una caratteristica fondamentale della nostra esistenza. Mentre continuiamo a esplorare il vasto e misterioso universo quantistico, il principio di indeterminazione rimane un promemoria umile e potente delle nostre limitazioni e della nostra infinita curiosità. Ci ricorda che, nonostante tutto ciò che abbiamo imparato, c'è ancora tanto da scoprire. E in questa ricerca incessante della conoscenza, ogni risposta porta a nuove domande, ogni scoperta apre nuovi orizzonti. Vi ringrazio per aver partecipato a questo viaggio nel mondo della fisica quantistica. Spero che questo video vi abbia ispirato a esplorare ulteriormente l'affascinante universo della scienza. Non dimenticate di iscrivervi al canale per altri contenuti entusiasmanti e di condividere questo video con chi potrebbe trovare interessante il meraviglioso mondo della fisica quantistica. Alla prossima!